All'andata contro Poggi Monzi la Valdambra aveva ceduto con un distacco netto da doppia cifra, almeno se è rimediato nella prima di ritorno 76-70 con diverse recriminazioni anche verso l'operato arbitrale, prova ne è, la multa arrivata in tal senso dal giudice sportivo è una parziale consolazione per la Copp Buccine Sporting che però di fatto adesso a tre gare di svantaggio dai play-off e per rientrare nel giro delle prime otto necessita di una serie positiva sul medesimo livello dell'inizio campionato quando appunto l'unica eccezione fu proprio Poggi Bonzi. A Ponticino sabato arriva l'asina longa Sinalunga sconfitta in gara 1 per 66-63 sul fil di Sirena attualmente oltretutto tra le quattro squadre che seguono lo Sporting in classifica. Quel successo ad ottobre fu l'inizio di una serie di quattro sorrisi consecutivi e a fronte quindi del terzo peggiore attacco del torneo l'occasione che si presenta ai ragazzi allenati da Bini è dunque importante per allungare in modo definitivo quasi su salvezza e play-out. Palla 2 al Palazzetto di Ponticino sabato 27 gennaio alle 21.